Buongiorno da Non Solo Anima TV. Siamo qui all'hotel Michelangelo per il convegno L'Uomo, creatore della propria realtà, dove scienze e spiritualità si incontrano. Abbiamo con noi Eleonora e Paul e vorremmo chiedervi il sogno, il sogno come strumento per mettere l'uomo al centro, per farlo diventare realmente creatore della propria realtà, come si può utilizzare? Quando si parla di creare la propria realtà, normalmente si parla dei pensieri, si parla delle emozioni che devono essere gestite in un certo modo per indirizzarli e raggiungere poi questo obiettivo, questa visione che uno vuole realizzare. Spesso in mezzo stanno proprio i nostri programmi del nostro inconscio, stanno queste limitazioni che abbiamo, le credenze, i programmi limitativi, la mancanza di autostima e tante altre cose. E questo ovviamente troviamo nel nostro inconscio. Il sogno da una parte ovviamente è uno specchio di questo inconscio e questo sappiamo oggi, ma già se uno lavora in quel senso lì può ricavare tante informazioni. Poi c'è un'altra dimensione ancora che secondo noi è quella che è veramente da scoprire, quella da entrare. Il sogno è proprio un'altra dimensione, la dimensione dove possiamo realizzare le cose immediatamente, tutto quello che desideriamo per poi portare queste cose nel mondo fisico. E questo è anche il nostro buon getto che abbiamo visto questa necessità perché il sogno viene un po' lasciato lì, viene appunto, sì qualcuno lo guarda da un punto di vista, sì per lavorare sulla crescita personale, ma non integra quell'altro aspetto secondo noi ancora più affascinante. E così stiamo realizzando adesso un sito internet che si chiama comprendereisogni.it dove proprio è un corso, un seminario internet e diamo delle indicazioni. Per primo, quali sono i vantaggi se lavoriamo con sogni, come possiamo ricordarci dei sogni e come possiamo attivare proprio un sogno. Stiamo facendo adesso un cd, una meditazione particolare con dei suoni tridimensionali attraverso una cuffia si ascolta e così si crea una sincronizzazione ottimale dei due emisferi per poter entrare in un rilassamento profondo e programmare molto bene un sogno, anche un sogno guidato e così ricevere informazioni su quel tema che uno è interessato da approfondire. Questo sito è fatto così che sono tante informazioni intorno al sogno per capire cosa significa un sogno lucido, un incubo, come posso superare un incubo, come sono fatti i sogni dei bambini, piccole tecniche come ricordarsi meglio dei sogni, cosa significa un sogno erotico, come lo posso usare anche nella vita quotidiana come energia e tante altre cose. È importante capire quale valore ha il sogno, è veramente un tesoro, se sfruttiamo questa possibilità, ogni giorno dormiamo e di solito non sfruttiamo questo periodo, anzi siamo così distrutti dallo stress quotidiano che magari vogliamo solo avere la nostra pace. e invece il nostro spirito, noi, la nostra consapevolezza viaggia ogni notte, in quel momento dove il corpo si addumenta, noi siamo o in un sogno e in altre realtà oppure in viaggi astrali. Un viaggio astrale è anche una realtà, anzi quando sono lì mi sembra che questi sono ancora più reali di questa vita qua. E man mano, come detto, ci possiamo svegliare anche in questa vita qua, nel senso di capire che anche questo è un sogno, in fondo è un sogno. Ci sono tante persone che hanno già la possibilità di essere molto consapevoli, per esempio, nei sogni, però non sanno sfruttarlo. Per esempio, anch'io da bambina sono volata in giro, ero lucida nel sogno, però non sapevo che cosa si potesse fare. Invece adesso so quante possibilità posso trovare nel mondo dei sogni e questo è proprio una delle nostre idee, delle nostre visioni che vogliamo portare fuori, un ricordarsi del potere, del sogno, in modo che ognuno che va ogni giorno a letto e sogna di poter sfruttare questo suo potere, in fondo. Perciò è eccezionale se andiamo a letto, come ha detto Paolo, per esempio, con una domanda precisa, vogliamo sapere una risposta, o abbiamo un problema e cerchiamo una soluzione, oppure ci manca un'idea chiara, o abbiamo un'emozione che vogliamo sciogliere, eccetera. E se andiamo con questa intenzione a letto ed è l'ultimo pensiero che abbiamo, ci addormentiamo e ci programmiamo la risposta per la mattina, l'avremo, senza fare niente, solo andando a dormire. Perciò vi auguriamo sogni d'oro.